Quando ti trovi di fronte a un avversario determinato e quando a livello di gioco non riesci ad essere incisivo, puoi vincere ugualmente la partita grazie alle qualità dei singoli. E' quanto accaduto al Francavilla contro il Castelfidardo, fanalino di coda del girone, ma che ha messo in grossa difficoltà i giallorossi, soprattutto nel primo tempo. A fare la differenza ad Ossantos, il puntero brasiliano ha messo al sicuro il risultato con due guizzi vincenti, ininfluente il gol degli ospiti a pochi secondi dalla fine la partita. Nel Francavilla il tecnico Arachini opta per l'Under Natale, classe 2001, in porta al posto di spacca e inserisce dal primo minuto un bauppo in difesa, mentre a centrocampo gioca di pinto e nel trio d'attacco c'è l'ex Montagnoli accanto a Ossantos e Mancini. Si rivedono in panchina Palumbo e Banegas, reduci da infortuni. Il Castelfidardo di Vadacca punta sul 4-4-2 con il tandem d'attacco Calabrese-Severini con Dercole che spesso fa da terza punta. Nel primo tempo, nelle immagini di Diego Martelli, sono gli ospiti a dettare ritmi e ad accarezzare il vantaggio, mentre il Francavilla appare un po' stordito da tanta determinazione. Dopo un colpo di testa al nono di milizia, alto di poco, il Castelfidardo va vicinissimo al vantaggio in due calorose occasioni. Al venticinquesimo, azione concitata in area giallorossa, la prima conclusione di Severini viene ribattuta dalla difesa. Sfera ancora viva, quindi Calabrese colpisce il palo. Il Villa reagisce due minuti dopo con una conclusione di Dos Santos respinta dal portiere ospite. Mai ancora in avanti il Casteldisangro che si divora un gol con Dercole. Il giocatore brucia tutti e si invola verso la porta. Uscita Kamikaze di Natale che evita un gol che sembrava già fatto. Nel finale di tempo, opportunità del Francavilla sul calcio da fermo, Dos Santos prende la mira ma spedisce al lato di un soffio. Ripresa, i giallorossi entrano in campo con un piglio diverso, anche se in avvio è ancora il Castelfidardo a creare un pericolo con questa conclusione di Calabrese. Al quarto, padroni di casa vicino al vantaggio con Dos Santos. Grandioso il riflesso di Marco Relli, anche lui under classe 2001. Iniziano i primi cambi. Dentro Samuel Di Renzo per Mop e Vanegas per Dipinto. Gli innesti aumentano la qualità del gioco giallorosso. Ventesimo sugli sviluppi di un corner doppia conclusione con Dos Santos e poi Bosco, la difesa ospite, si salva con molto affanno. Il Castelfidardo tuttavia non sta a guardare il ribaltamento di fronte e tiro di Dercole che colpisce l'esterno della rete. Ventisesimo, giallorossi pericolosi su punizione. La conclusione di Vanegas è di poco alta sulla traversa. La squadra di Rachini aumenta la pressione. Tre minuti dopo, Milizia di testa non inquadra il bersaglio grosso di poco. Intanto entra Palumbo per Montagnoli. E al trentaseesimo il Francavilla passa in vantaggio con Dos Santos. Zampata vincente del bomber giallorosso su di sviluppi di un corner calciato da Vanegas. Il giocatore festeggia indicando proprio il numero dieci giallorosso che compie gli anni. Tuttavia le emozioni non sono terminate. Nel primo dei sei minuti di recupero decretati dall'arbitro Mastro Domenico di Policoro c'è il raddoppio del Francavilla, ancora con Dos Santos servito da Vanegas. E ad una manciata di secondi dal triplice fischio il Castelfidardo accorcia con Semiao. È entrato in corso d'opera il giocatore approfitta di un malinteso difensivo e appoggia la palla in rete. Grazie a questi tre punti il Francavilla aggancia il quinto posto. Il Castelfidardo mastica amaro, ma se avesse concretizzato le occasioni avute nel primo tempo probabilmente l'epilogo sarebbe stato diverso. Perché tanta fatica? Perché abbiamo giocato secondo me a ritmi bassi, abbiamo dato poco intensità, non eravamo corti come al solito e quindi succede che rischi di prendere gol. Però poi abbiamo sistemato qualcosina nel secondo tempo, negli ultimi 30 minuti. Penso che Francavilla è passato in vantaggio, è raddoppiato e ha meritato la vittoria. Il gioco del calcio è un gioco di squadra, però possiamo dire che questa volta almeno la differenza l'hanno fatta i singoli. Dos Santos e anche Vanegas quando è entrato? Sì, sono giocatori importanti, sono giocatori che poi spaccano le partite. Dos Santos è in un periodo di grande forma, lavora per la squadra e finalizza le ultime 7-8 partite, ha fatto sempre gol. Quindi a me fa piacere per lui, fa piacere per la squadra. Il Pocio oggi è rientrato, Vanegas, 30-35 minuti di grande qualità. Quindi lo stesso Cosmo, Palumbo, per 15 minuti l'ho buttato dentro e ha fatto molto bene. Ma non solo loro, hanno fatto bene gli ultimi 30 minuti anche gli altri. Quindi io mi piace sempre parlare di gruppo perché nei miei difficoltà poi se non hai il gruppo forte non vai da nessuna parte. Hai fatto due gol dei tuoi, area affollata su quel calcio d'angolo, la zampata vincente e poi soprattutto quel tiro di potenza, il secondo gol. Più che potenza, più di rabbia dai, perché ancora ho tanta famme. Senti, come mai però questo primo tempo e anche in parte il secondo, tanta fatica avete fatto? Non lo so, forse perché abbiamo giocato pure domenica, quindi domenica mercoledì, è stato pochi giorni, il primo tempo un po' e poi siamo sciolti, siamo cominciati a fare quello che sappiamo fare bene. E' off comunque, no? Sì, sì, la squadra è il nostro obiettivo, è il pre-off, è la soddisfazione a noi stessi, al presidente che fa dei sacrifici, quindi dobbiamo andare avanti. Un'ultima cosa, credo che oggi sia il compleanno di Banegas. È il compleanno del Franco Banegas oggi. Sta diventando vecchio, sta anche di Belanca, quindi auguro a loro con una bella pittura. Due compleanni, due gol di Dos Santos. Dai, una testa, va bene, dai.